buongiorno sto facendo la scena di quella che è appena entrata nella stanza se siete qua dentro ovvio che non sono appena ho già avuto il primo impatto con la stanza e c'è una sorpresa positiva è stata che non c'è la moquette per terra ma quella negativa è l'inquinamento acustico che c'è qua dentro abbiamo delle tende oscuranti doppie tende oscuranti e le tiriamo su per farvi vedere esattamente la vista siamo praticamente sopra il casello di montecchio maggiore mi sa che quest'anno va un po così con verona anche nell'altra tappa ero fuori da un casello vabbè però il discorso è che vediamo se a finestra chiusa va meglio eh già così va bene ok sono al castagna hotel appena fuori dall'autostrada ma letteralmente e facciamo il tour della stanza cabina armadio old style abbiamo anche la cassaforte molto utile per me perché quando vado fuori a lavorare metto le mie cosine la stanza poi molto comoda posto per la valigia scrivania qua già addombato i lamponi che mi mangerò tra pochissimo ci sarà anche un frigo qua tv poltrona in linea con gli arredi letto vediamo il letto se comodo il materasso morbidissimo super accogliente questo quanto diciamo che non è proprio malvagissimo c'è anche l'aria condizionata che non so come funzionerà mettiamo sull'auto perché fa un caldo qua dentro terribile e rimanere con la finestra aperta in questo momento diciamo che non è un'opzione perché fa troppo casino sì a capire anche come funziona no non si attiva ragazzi non si attiva ok chiamerò uh c'è anche un bollitore e di nuovo ho portato il mio qua c'è siccome questa non è l'unica tappa che devo fare per questa tirerà fuori dal valigione soltanto le cose indispensabili per questa tappa e poi nella prossima tirerò fuori tutto il resto sì ma fa troppo caldo qua dentro no no devo fare qualcosa sì buongiorno sono veronica taria e per quanto perché non sto riuscendo ad accendere l'aria condizionata ok va bene grazie salve il problema non sono io il problema sono loro che hanno proprio inibito l'accensione dell'aria condizionata perché hanno fatto dei lavori mi fa molto piacere ma vi sto odiando tantissimo perché fa caldissimo si muove qua dentro scusate nel mio odio momentaneo per l'hotel sono dimenticata di farvi vedere il bellissimo bagno scelta interessante di colori non è malissimo diciamo che è un po claustrofobico perché manca una finestra però in per sé così particolare ma non è proprio malissimo ne ho visti di peggio ok 20 ore dopo dovevo uscire subito e invece sono passate due ore in cui ho lavorato perché ho tanti progetti da mandare avanti adesso sono finalmente pronta per uscire ma una volta che indosso una cosa diversa non ve l'ho fatta vedere quindi outfit of the day allora sto indossando una t-shirt nera semplicissima sopra questo maglione no maglione felpa questa felpa di levis grigia che in questo momento indosserò così perché sto morendo di caldo sotto un paio di jeans anche questi di levis molto vecchi tra l'altro sono tra i più vecchi che ho infatti lo stile adesso ve lo faccio vedere è molto a sigaretta infatti sono anche leggermente no leggermente sono una taglia di più rispetto a quella che porto adesso però li ho tirati fuori perché non volevo più commettere lo stesso errore di andare partire con i pantaloni che mi servivano per lavorare quindi sto indossando questo sotto la mia samba e si va in centro a scoprire il centro di Montecchio Maggiore sto camminando verso il centro e sento che questa è una di quelle volte in cui sto facendo una cosa non lo so nemmeno io perché mi intigno a farla ma la faccio comunque e poi so che mi pentirò ma intanto continuo a farla praticamente stavo camminando e così dal nulla sono stata fermata da un ragazzo che ha visto così da lontano mi ha sgamata subito che sono moldava anche lui moldavo allora mi ha voluto parlare bellissimo conoscere gente così a caso perché poi ho notato che quando ti capita di parlare con persone che magari non vedrai mai più nella vita puoi aprirti un po' di più e raccontare magari delle verità che non racconteresti a tutti quanti e a volte si entra più in profondità con uno sconosciuto piuttosto che con una persona che conosci da tanto tempo perché poi quelli che devi comunque frequentare o tenere nella tua vita a volte hai paura di svelare troppo perché non sei mai se ti ritorci contro perlomeno così funziona per me perché comunque probabilmente nella mia infanzia è successo questo quindi mi ha un po' segnato il fatto che magari quando mi sono aperta le persone hanno usato questo contro di me comunque non so se arriverò fino in centro perché sto per tornare indietro perché dopo non so come tornerò che se diventa buio l'hotel non è proprio in una zona bella per niente comunque ho acceso la telecamera perché volevo condividere questo con voi e volevo farvi vedere questo gersomino bellissimo che capita proprio a pennello e poi il castello si vede il castello da qui il famoso castello il punto è che mi piacerebbe molto vedere il centro c'è un tramonto pazzesco adesso poi devo cenare però e se mi fermo cenare in centro diventa tardissimo quindi mi preoccupa un po' per cui se adesso decido di tornare indietro chiamo l'hotel mangio lì e domani mattina potrei indossare le scarpe da ginnastica e farmi una corsa fino al duomo questa potrebbe essere un'ottima opzione perché sono una stupida la mia collega non aveva bisogno dell'auto stasera potevo farmela lasciare e andare tranquilla in auto però nulla di questo sarebbe successo e non avrei conosciuto questo ragazzo carinissimo quindi nulla accade per caso e scopriamo perché volevo tanto andare in centro stasera spero che non mi pentirò in questo momento spero tanto che ci sia un servizio taxi anche se la vedo molto dura perché me lo pago io però lo uso per tornare in hotel è carino qui comunque un posto super tranquillo se non fosse per tutto quello che si sente non avrei nemmeno paura di andare in giro perché è veramente tranquillo però un posto che non conosco una zona un po' così e allora mi sale la preoccupazione signore signori eccoci nella civiltà buongiorno buongiorno stamattina ho vissuto una metafora enorme proprio importantissima la metafora fa così non metterti troppo comodo perché la vita non sai cosa ti riserva e quindi stamattina ho due notizie una negativa e una positiva quella negativa è che l'aria condizionata nella stanza non sarebbe mai stata attivata perché c'è da fare un lavoro più importante quella positiva è che mi hanno offerto di cambiare stanza ma quando io pensavo che sarebbe stato tutto bellissimo non è stato tutto proprio bellissimo perché questa è una di quelle vecchie e ha la moquette ma me la faccio andare bene perché è dall'altro lato l'aria condizionata funziona ed è più silenziosa e non ce la posso fare a stare in quell'altra là sopra e qua c'è puzza di fumo ale comunque va bene così non intendo tornare su la stanza è molto simile ma è il vecchio stile che aveva l'hotel ci sono anche delle tende un po' più old style altro quadro queste saranno di una collezione di qualcuno perché sono sparsi per tutto l'hotel anche gli arregi sono un po' più vecchi e il bagno è metà verde e bordeaux e metà rosino e azzurrino ci piace? sì va bene ce lo facciamo andare bene e va bene così a posto devo andare a farmi la doccia e prepararmi per andare a lavorare stamattina mi sono allenata ho fatto pilates per gambe e mi sento molto refreshed e per colazione ho mangiato uova e pane tostato sono andati a comprare il pane senza glutine per me ieri gli ero detto la prima volta che me lo ricordo al check in ed era tutto buonissimo ora vado avanti con la giornata quindi ci vediamo più tardi buongiorno stamattina ho avuto inizio un po' particolare della giornata sono andata a correre e a metà tragitto quando ero proprio a 3 km dall'hotel ha iniziato a diluviare sono tornata fra di cià con le scarpe zuppe e tutti vestiti ovviamente ed è stato molto interessante un'esperienza che non avevo ancora fatto questo hotel è ufficialmente bocciato per me perché ho cambiato stanza per avere l'aria condizionata ma l'aria condizionata non fa niente cioè siamo su 17 gradi e comunque fa caldissimo ho messo la felpa perché era l'unica cosa non loggata dal brand con cui lavoro giusto per non mettermi qua davanti a voi in bralette però sto morendo di caldo e in più questa stanza puzza di fumo e le finestre sono sigillate quindi mi sento tipo in trappola fortunatamente è l'ultimo giorno stanotte sarà l'ultima notte che dormo qui poi vado in un altro posto perché questo è un no è una di quelle volte in cui ho accettato quello che la vita mi ha messo davanti cioè cambiare stanza l'ho preso con grande fiducia invece è stata una bastonata ma vabbè fa niente è andata così ora sono pronta pettinata e lavata e dovrei andare in location ma sta diluviando cioè se metto piede fuori secondo me mi inzuppo di nuovo non ho l'ombrello e devo fare tipo dieci passi fino alla macchina ma da dove arriva questa pioggia non era prevista qualcuno ieri in allestimento ha detto ma no farà bellissimo danno bel tempo infatti si è visto vabbè ok ieri sera ho cenato nel ristorante dell'hotel e vi dirò il cibo qua è buonissimo ho mangiato semplicemente dei fagiolini saltati in padella ed erano squisiti per me avevano tipo un chilo d'aglio dentro ma erano veramente buonissimi non ho mai mangiato dei fagiolini così buoni e poi le patate al forno e le uova forse sto un po' esagerando con le uova però settimana prossima farò detox perché sarò tipo in una residence in un appartamento per cui per colazione mi comprerò le cose al supermercato mangerò le mie solite cose il burro d'aracchi di pane così e quindi per una settimana magari mangerò molte meno uova quasi niente se possibile e quindi mi disintossicherò perché qua ho mangiato ieri mattina ieri sera stamattina ancora domani mattina ancora vabbè che la storia del colesterolo nelle uova è un po' una bufala però anche così è un po' esagerato comunque accogciatura on point questa lunghezza della frangia quella che preferisco è proprio stupenda e niente spero che smetta di piovere buongiorno è arrivato il giorno della partenza oggi lascio finalmente questa stanza perché direi che ne ho abbastanza l'aria condizionata non funziona fa solo rumore cioè si muore di caldo qua dentro però sento che questa esperienza è stata una prova importante che sono riuscita ad affrontare con il mood giusto perché non mi sono lamentata tantissimo e mi sono adattata parecchio rispetto a quello che avrei fatto magari in passato quindi ben fatto ben fatto Veronica oggi però direi basta ne ho abbastanza di questa esperienza quindi vado verso la prossima tappa quindi settimana prossima sarò ancora in viaggio e quindi vi farò vedere tutto quello che succederà la prossima settimana dove vado cosa faccio negli ultimi due giorni non è successo moltissimo a parte lavorare non ho fatto altro chiudo questi giorni qui a Montecchio Maggiore e vado verso la prossima tappa finalmente di nuovo fuori dall'Italia perché sento in questo momento che andare un po' fuori dalla mia comfort zone dalle persone con cui sono abituata ad interagire mi mette in uno stato molto interessante e molto sfidante e voglio vivere un po' di più di questo quindi non vi dico dove vado oggi sarò in viaggio quindi non vi farò vedere molto perché dovrò anche guidare dovrò dare il cambio alla mia collega però è un lungo viaggio e quindi ci vediamo una volta arrivati lì spero di potervi far vedere qualche cosa del viaggio se no poi iniziamo tutto dal momento dell'arrivo io chiudo questo video vi saluto vi mando un mega abbraccio gigantesco ci vediamo nel prossimo video ma fino ad allora mi raccomando come sempre prendetevi cura di voi ciao